Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico 92 e come ben vedete ci troviamo sulla mia marca PlayStation 5 e andiamo a scoprire Elden Ring. Mi preme dirvi che non sono un fan dei Souls-like, ma questo gioco con alcune differenze secondo me fa al caso meno. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito questo gioco. Alzati, senza luce. Vai. Le foglie cadute narrano una storia. Il grande anello ancestrale finì in fronte a me. Nella nostra terra, oltre alla Libia, l'interregno. Ezz. Ciao. La regina Ammarica, l'Eterna, scomparve nel nulla. E nella notte dei neri coltelli, Godwin Laureo fu il primo a incontrare la morte. Godwin. I discendenti di Marica, progenie e disemidei, rivendicarono i frammenti dell'anello. Ebbri del potere di cui si trovarono investiti, scaterarono la disgregazione. Madre. Una guerra da cui non emerse alcun lord. Ciao lordio, ciao. Una guerra che segnò l'abbandono della volontà superiore. alzatevi, senza luce, senza vita, eppure viventi. La grazia perduta da tempo parla a tutti noi. Oralù, capo tribù dell'Aspra Terra. La scintillante Maschera d'Oro. Fia, la compagna di morte. Il ripugnante Mangiasterco, buh. E Ser Gideon, offnir onnisciente. Saranno i cinque boss malefici. Andiamo a vedere. Ciao Lucina. E qualcun altro. Uno spirito eletto dalla grazia. Che sono io. Senza luce, senza alcuna fama. Torno. Traversa la nebbia. Dove si apre l'interregno. Cerca dell'Anello Ancestrale. Tagli. E divieni Lord Ancestrale. Mamma mia. Leggi il messaggio. E viva l'Ancestrale. Ok. Per prima cosa, Gioia. Ok. Tito avvizzito di senza luce. No, non ve li. Leggiamo sto messaggio. Supera la strada incerta e tortuosa. Reclima i ritorni di Lord Ancestrale. Ok. Ah. Si può aprire? Apri. Macchia di sangue. Tocchiamola. Oh. Samurai. Cappella dell'attesa. Guarda l'Anello Ancestrale. In breve. Viva l'Anello Ancestrale. Ok. Guarda su. Oh. Ciao, Alberino. E' come un sogno. E' viva l'Anello. Tanto più è viva l'Anello Ancestrale. E' viva l'Anello Ancestrale. Attenzione. Messaggio. Ok. Prima cosa. Fortuna. Fortuna. Gioia. E' viva l'Anello Ancestrale. E' viva l'Anello Ancestrale. Più avanti morte. E' viva l'Anello Ancestrale. E' viva l'Anello Ancestrale. E' viva l'Anello Ancestrale. E' il momento del colpo critico. Ancora niente oggetto. Te la senti? Di fare cosa? Vabbè. Andiamo avanti. Come cacchio si corre? No. Mi sono curato per niente. Ok. Per prima cosa te la senti? Un nemico come una disorveglianza. Più avanti morte. Oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Sono già morto. Eh. Normale. Ok. Va bene. Se lo dite voi. Sembrava strano che non mi faceva neanche attaccare questo. Ma mi sa che proprio. E' così il gioco. vero che non ho giocato ai Souls-like però. Ciao cavallino. Non temere Torrente. La sorte è con lui. Grazie. Dal resto l'abbiamo trovato. E' così l'abbiamo trovato. E' così l'abbiamo trovato. E' così l'abbiamo trovato. E' così l'abbiamo trovato. Ma. E' così l'abbiamo. Porticina, alberello, maos, ok, 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 scendere, dai, vittoria, ok, e ancora, ok, questo è il fuocherello, la, dai, grazie per tutto a scoprire, ah, non è, è la grazia di qualcuno, ok, riposiamo, vai, ci sta, Ma cacchio si corre in questo gioco, col cerchio, vaffa a culo, Yeah, ciao baby, ok, Già è morto, ok, Diamante, spugnante, con la modessa, non mi fico, ci sta, attacchiamo, eh, ok, Va, quindi con... Ok... Prova due mani, mmh, mmh, Ad ogni modo, potreste fare tre armamenti, ok, alcuni armamenti, anche a due mani, nel... Calzopo... Cioè, immettiamo di sferare gli attacchi più difficili, cioè... Cambio armamento, mano a destra, cambio mano a destra, e triangolo più eleone, non impugna a due mani. Ok... Vediamo, che c'abbiamo... Come sconviga questa? Oh, me ne era andato! E' morto, bastardo... E' morto... Ah! Ah! Ok Oh no, a balestra Ok Gli armamenti possiedono abilità speciali chiamate abilità Esistono abilità? L2 abilità Ok Ok Prova stregoneria L3 accovaccia di altri Ok, quindi Erba Eeeh Quello non deve morire Com'è sto fatto? Deve morire tutti Qua non si passa? No, non si passa Alcuni attacchi possono sbilanciare il nemico Esponendo ancora un pochino Gli attacchi caricati e in salto Rendo praticamente facile sbilanciare il nemico Tiene imprimito R2 Attacco caricato R1 Attacco in salto Minchia che è sto Statue di Marika Se muori tornerai in vita Presso l'ultimo luogo di grazia Ok Se muori vicino Di Marika Tuttavia potrai Scegliere di partire da quel punto Ok La posso rompere? No Oh 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 Nebbia ragazzi Questo significa Avversario Mostriciattolo Puoi eseguire un contrattacco Subito dopo aver bloccato Un colpo nemico Contrattacchi in difesa Sbilanciare il filante del nemico R2 Subito dopo aver bloccato Un attacco Oh Morto Vabbè Come mi cura? Non mi posso curare Ok Ok Mi ha fatto il giro Ritorniamo qui Forza Salberello E dai Apri sta porta Ah Tocchiamo la grazia Ok Vediamo se mi posso Un attimo Potenziare No Ok No Non ci posso andare ancora Ok Esatto Usare chiave della spada di pietra Vai usiamo Non inventare Chiave della spada di pietra Ok Usa il dito Totto Per lasciare In segno di ovazione Oro Quando un giocatore Di un altro mondo Ti evocherà Avrai inizio Una sessione Multicodio Cooperativa Verrai Disegnato come Alleato Dito torto E il tuo obiettivo Sarà sconviggere Il boss Dell'area La bussola Posta nella parte Superiore Dello schermo Indica che Ti ha evocato L'ospite di dita Ok Allora Non si usa Ok Eeeh Dov'ado? Qua? Ah Ok 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 Donde saliamo? Non so Bello Ciao Ok Non ci sta niente Dobbiamo solo salire Ah Nella gestrale Oh Pah 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 Abbiamo questo Che mi dice qua La grazia è il ruolo di guidare i senza luce e condurli sulla letta via Ancora oggi esistono luoghi di grazia che perseranno questo potere I loro raggi dorati ti indicheranno alla strada Usa la mappa per verificare la tua posizione, il terreno e gli edifici conoscanti Poi aggiornare le informazioni della mappa Recuperando frammenti presso la stela Aggiungi i contrassegni sulla mappa e orientati nella mappa Eccola Primo palo Allora io sto Minchia come grande la mappa Minchia Allora che roba è qua I due cosi che abbiamo trovato Ok Io sto qui E queste dove devo andare Questo vuole qualcosa Ciao bello Sono senza vergine Non c'ho niente Sto angoiare la romba You are fated It seems To die in obscurity Ma be a fa culo Ok Pessi bene Ok No per adesso niente Ciao Ciao Allora come cacchio faccia vedere Dove mi porta la luce Allora fammi vedere Ah ecco Andiamo da di qua Di qua Che cosa è questa Guido e accustate Per chi compie il suo ritorno alle radici Ok No sta andando nella buona direzione Di là E l'acqua Ci posso passare Azz Ho fatto bene Ad andarmene Da sto cosa Allora 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 Grazie a tutti. Oh, è comparso? Ah, eccolo là. Ma cacchio si fa l'attacco da dietro? Ah, mi devo avvicinare di più. Ok, va bene. Ok, quindi immagino che io debba andare di qui. Ok, va bene. Ok, va bene. Va andiamo qua Allora come si mettono I Contrassegni E questa Si Qua però Non sto sulla strada buona Di qua Facciamo il giretto Ci diamo a questa Mua Ah Azz, questo c'è il lupolo Oh, scappa, scappa Oh, ma, ma fa cuccola, va, me ne vado Abbandono Allora, devo andare di là Non posso aprire la mappa Ah, è già passato Eh, la mappa non mi dice niente più qua Che cacchio devo fa' Mi sa che ho mancato qualcosa Ok Vediamo Mi metto qua un attimo Vediamo sta mappa Ok Che ci sta qua C'è un cannocchialo Dove sta Cannocchialo Eccolo Ok Ok come in casa è tua ciao 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 Melina I offer you an accord have you heard of the finger maidens no they serve the two fingers offering guidance and aid to the tarnished ok but you I am afraid are maidenless I can play the role of maiden ah bella turning runes into strength to end you in your search for the Elden ring you need only take me with you ok vai vieni to the foot of the earth tree vai ok grazie per l'anellino bella il cavallino ho sbloccato il cavallino ragazzo bella ok ragazzi quindi qui ci ho messo un po' di tempo come capire per chiamare il cavalluccio in pratica dovete andare in opzioni vedete sulla sinistra c'è la borsa quindi vi spostate con la freccetta e fate assegna sul tasto che volete e mettete il fischietto per chiamare il cavalluccio quindi una volta fatto questo premete triangolo e il tasto per chiamare il cavalluccio ed eccolo qui torrente quindi ragazzi per la prima parte di Elden Ring ci fermiamo qui ci vediamo alla prossima in un nuovo video bella di Elden Ring Grazie a tutti